Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto e se anche tu lo sei, seguimi sul canale perché ogni giorno faccio un video nuovo. Oggi ti parlo di CFMoto 800MT Sport del 2023. La CFMoto 800MT utilizza come motore un'unità derivata dal motore della KTM 790 Adventure, quindi con le stesse caratteristiche del motore austriaco, anche se i cutter poi sono marchiati CFMoto. Questo fatto rappresenta una garanzia per gli appassionati che possono trovare una moto interessante sotto vari punti di vista e la garanzia di aver derivato il motore da un'unità collaudata nel tempo. Rispetto al motore della KTM vi è stato un addolcimento nell'erogazione della potenza per assecondare sia un carattere sportivo ma con una particolare attenzione alla dolcezza di erogazione della potenza piuttosto che a valore massimo in assoluto. Quindi direi, scusate a questo punto, di vedere la moto in questa bella immagine. Quindi vedete l'ampia protezione aerodinamica di cui è dotata appunto per facilitare l'utilizzo anche autostradale. Parliamo quindi del motore che è un bicilindico di 799 cm3, raffreddato ad acqua con una distribuzione bialbero. La potenza massima è di 91 cavalli e 9.250 giri al minuto. La coppia massima è di 75 Nm 8.000 giri al minuto. Il telaio è formato da tubi in acciaio ad alta resistenza, mentre la sospensione è affidata a una forcella della Kayaba. Pasteri rovesciati, vediamola qui nell'immagine, da 43 mm regolabile nel precarico della molla e nell'idraulica. La soccorsa è di 160 mm, la stella alta 825 mm da terra. Al posteriore serve invece in presenza di un monomortizzatore idraulico regolabile nel precarico della molla che offre un'escursione alla ruota di 150 mm. I freni sono poi all'anteriore un doppio disco da 320 mm, mentre al posteriore siamo in presenza del singolo da 260 mm. Le ruote in lega leggera sono da 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore. Capacità del serbatoio di 19 litri, un peso in ordine di marcia di 218 kg, il prezzo di 9.990, quindi praticamente 10.000 euro, completano il quadro di questa interessante proposta di CFMoto. Se ti è piaciuto metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi. Prima gratis, secondo faccio un video al giorno, così sei sempre aggiornato al giornato sui contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona serata.